Apparecido Leite de Souza Junior. Per tutti, Emerson. Questa una figura, questo un giocatore che piace al Milan. Un giocatore che piace al Milan. Attenzione però, piace anche all'Inter e c'è l'interessamento anche del Tottenham per questo giocatore che ha già esordito nella nazionale brasiliana. Chi è Emerson? Emerson è un terzino destro. Forse si esalta di più nel 3-5-2 come quinto a centrocampo, però gioca anche nel 4-4-2 o in ogni caso nella difesa a 4. E quindi potrebbe essere un giocatore ideale per il Milan, anche se ripeto, l'Inter nell'eventuale affare Lautaro potrebbe inserirlo per avere un giocatore valido. Perché? È un terzino destro che però ha già segnato 3 gol e 5 assist nel Betis di Siviglia. Perché oggi il giocatore è nel Betis e rimarrà nel Betis fino al 2021, ma appartiene al Barcellona. Come riferisce anche TuttoSport oggi potrebbe essere un'operazione simile a Teo Hernandez. E anche a livello di costo non è certamente un giocatore a buon mercato, questo comunque 21enne. 20 milioni, 18-20 milioni la cifra che potrebbe chiedere il Barcellona. Ma il Milan vuole inserirsi prima che ritorni al Barcellona, oggi in prestito al Betis. Quindi, dato che il Milan su quella fascia qualcosa vuole fare, ecco perché abbiamo parlato anche di Simacan che può giocare centrale ma sulla fascia di destra. Però indubbiamente Emerson potrebbe essere il giocatore ideale. Il Milan deve rafforzare quella fascia. Chiaro, sarà un'affascinante forse lotta con l'Inter per prendere questo difensore di fascia. Piace anche a club internazionali, ho detto uno su tutti il Tottenham. Sembra che non venga confermato Rie, altro giocatore interessante, solo che quando vai nel negozio in Inghilterra, nei negozi in Inghilterra, la merce anche se è sempre sovrastimata, anche se magari non vale questa merce quello che chiedono i club inglesi. Quindi, attenzione, ieri vi ho parlato di Simacan, in uno degli ultimi video, giocatore come difensore centrale. Sempre giocatori che però giocano già, sono già protagonisti, abbiamo detto nello Strasburgo, lui nel Betis di Siviglia, giovani ma già titolari in squadre importanti europee. Dunque, attenzione, Emerson, la eventuale lotta con l'Inter. Potrebbe essere, qualcuno diceva oggi tutto sport, ripeto, una figura come Teo Hernandez. Sappiamo, come riferisce sempre il quotidiano torinese, che avrebbe già il gradimento sia di Ivan Gazzidis sia di Paolo Maldini. Con Barcellona i rapporti sono buoni, chiaramente potrebbe essere un giocatore sulla bilancia per l'operazione Lautaro, ma il Milan è molto attento. Certo, sarebbe una difesa incredibile con Emerson a destra, Teo Hernandez a sinistra, Romagnoli centrale con Simacan. Una difesa tutta da sognare, tutta da immaginare. Però, come dico sempre io, l'illusione è dolce per sua natura. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrado.